Allora, 4 eventi e ci siamo. Arriviamo alle 10.50.56. Come ti senti per questa partenza? Pronta. Te? Ehm... è... Katarin Frangente. Carroccia 4. Vola 4, eh. Sì, ma vedo timorali, eh. Non ho capito? Eh, 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 eh. Quindi andiamo. Dove si va a capo? De qua. Siamo. Ma tu stai registrando? Sì, bravo. Eh, sì, vai. Voi vi chiederete, ma noi dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Stiamo andando a Lecce per tre giorni e poi a Foggia per due giorni. No, tre. Guarda! Ci mettiamo lì, sdraiati? Sì, sì. Fa! Buona caramelle. Non si accettano le caramelle dagli sconosciuti, ma gli dai conosciuti... Porca miseria, che bomba! Quando è che... Ehi, ciao. Siamo entrati. Siamo partiti. Adesso ci aspettano sei ore di viaggio. In fondo. In cui non faremo... Mai ritorno. ...assolutamente niente. Giusto per organizzarsi un attimo. Che c'è... Per le buste... Simona deve avere 162 euro da betta, e te ne devi dare diviso 6, quanto faceva 205,40 diviso 6? Allora io ho fatto il conto che è quello che ha speso 20 qui stella, 34,23 periodico, allora per 2, per 2 e quindi fai 162 meno 68 è quello che te devi dare, aspetta, sistematevi voi, io entro in gioco, abbiamo problemi con i calcoli, così voi siete sistematici, stai zitta adesso Gemma, Simona ti deve dare dei biglietti, 68 e 46, aspettami, devi dare 94 e 54, aspettami, devi dare 94 e 94, ci siamo addobbati per giocare a uno, sembriamo dei vecchietti con la copertina, coprimi che c'ho freddo, La coperta serve per, metti giù le carte, no per, no, che c'ho freddo Stiamo annoiando a morte, però a me non c'eravamo le carte E da noi E te che vuoi? E io me sto annoiando E te guardi fuori, non c'è niente, guardi nulla Posso buttare la gioia? Ehi, cambia tanto Perfetto Non tocca a te Passo Madonna, l'altro No, che scatto Non tocca a te Ma tocca a Bettina Bettina è già fatta, tocca a te Siamo a Ortona, mancano circa 6 ore all'arrivo Non è vero Quanto manca? Manca 5 5 ore all'arrivo Allora, come si fa? Così? Non c'è niente là È l'ultima casa Non c'è la garbazzo Non c'è niente in età Jacopo è già chiuso fuori Non l'hai chiuso dentro, se mai Hai ragione Allora di qualcosa Che sei morto Che sei morto Oh no Parabosee, parabosee, deretà Deretà, cosa sarei? Ma poi diciamo per tanto Basta Quindi Questo deve stare in mezzo Ecco Ecco la Laura Oh, 9,9 Eh, tu hai detto Forse è qui, però questa è qui Eh, si è visto adesso Ok, siamo quasi arrivati Sono dieci minuti alle undici Quindi manca veramente poco Finalmente Come è andato sto viaggio? Male No Puntualissimi Beh, in realtà con 18 minuti di ritardo Non è vero Niente, ci vediamo a me Ci vediamo a bed and break Ciao 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 Ciao